Salve a tutti, ospite di oggi per le interviste di Traderlink, Filippo Giannelli di Tradingfacile.eu. Daremo con lui uno sguardo al DAX che ha riservato qualche sorpresa. Non anticipo altro, lasciate le considerazioni. Sì, ciao Rossana e bentrovata. Sì, oggi parliamo del DAX, DAX che in queste prime ore di contrattazione di questa ultima sessione della settimana sta mostrando una forza relativa particolarmente elevata. Questo, dico la verità, mi ha un po' sorpreso personalmente perché dopo i segnali di stanchezza tra virgolette forniti dal mercato a inizio mese, dopo quindi anche l'arretramento di ieri che è chiaramente dovuto anche al riassorbimento di questo forte ipervenduto di breve che si era creato. Però già oggi il mercato sta mostrando una buona ripartenza. Ieri il mercato ha difeso un livello secondo me importante nel breve, ovvero quota 13.100 punti, andando sotto in intraday ma poi recuperandolo in chiusura. E oggi stiamo assistendo a una sessione in deciso rialzo. Anche qui, oggi non dimentichiamolo, è giornata di non far payroll, quindi nella seconda parte di sessione avremo forte volatilità sui listini USA che inevitabilmente si ripercuoteranno poi anche sui listini azionari europei. C'è però anche qui un livello da tenere sott'occhio perché se il mercato oggi riuscisse a tenere in chiusura almeno quota 13.270 secondo me aumenterebbero le probabilità di assistere poi ad un mercato comunque forte anche nella prossima ottava. Oltretutto c'è di più perché se andiamo a vedere la dinamica di prezzo su un grafico daily vediamo che cosa che il mercato aveva offerto un primo interessante segnale rialzista rompendo al rialzo questa successione di minimi decrescenti successione insomma che andava avanti da giugno scorso e qui poi dopo appunto l'iniziale salita sul pullback appunto di ieri il mercato ha difeso questi livelli appunto di rottura e oggi se il mercato dovesse confermarsi forte e quindi chiudere sui massimi qui avremo un modello, un pattern a tre candele che è un pattern di tipo morning star e anche questo è un pattern di implicazione rialzista però chiaramente ripeto sarà fondamentale monitorare la chiusura odierna per saperne di più quello che concludendo il quadro operativo viene fuori analizzando anche il Gustox ovvero la volatilità implicita inversamente correlata al DAX è una volatilità implicita che ieri aveva provato a rialzare la testa ma qui interessante questa candela di inversione con il mercato che poi ha fatto nuovi minimi quindi per il momento non ci sono diciamo evidenze di un mercato debole e se oggi appunto il mercato mostrerà una chiusura forte secondo me aumenterebbero le probabilità di assistere nella prossima ottava ad una nuova mossa al rialzo prossimi obiettivi anche qui non troppo ambiziosi quali sono? Quota 13.600 punti dove secondo me il mercato incontrerà resistenza decisa e in allungo quota 14.000 punti non oltre per il momento Perfetto Filippo io ti ringrazio per tutte quante le informazioni e per la panoramica e intanto rimando con te l'appuntamento alla prossima volta Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti